La nuova segreteria del PD dell'area Renzi è appena insediata e il Movimento 5 Stelle spara a bordate ad alzo zero contro quello che definisce un rottame team da spaghetti western. Sul blog del gruppo parlamentare del Senato dei Grillini si punta l'indice contro le scelte politiche come il sì all'alta velocità e la proroga delle missioni militari e il no alla sfiducia alla cancellieri. Si criticano i curriculum personali, i percorsi politici non sempre lineari nel PD. Ma su un esponente della segreteria, il siciliano Davide Faraone, responsabile per il welfare e la scuola, le accuse si fanno più pesanti. Durante le regionali del 2008 in Sicilia, mentre raccattava voti a Palermo, ha incontrato persone poi condannate per mafia, persone che in quel momento erano indagate e sottoposte a intercettazioni, scrivono i Grillini. Il Movimento diffonde gli atti giudiziari che proverebbero il contatto tra Faraone e alcuni individui poi condannati per reati di mafia a 9 anni e 4 mesi. In particolare il brogliaccio di un'intercettazione ambientale in cui i due di essi discutono in macchina dei contatti con Faraone, della campagna elettorale per lui. Impegno non concretizzatosi, i due malavitosi parlano della difficoltà incontrata nei loro ambienti nella richiesta di voti per la lista del PD. Faraone, che abbiamo sentito poco fa, respinge sdegnato ogni addebito. Quelle intercettazioni sono il mio certificato antimafia, i due personaggi raccontano di aver addirittura strappato i facsimili con il mio nome e di non avermi sostenuto in alcun modo. Ho incontrato persone incensurate che mi hanno incontrato in luoghi pubblici, presentandosi come elettori, ma non mi consideravano affidabile per i loro interessi. È stato messo in moto un ventilatore in cui mi fanno schizzare fango, continua Faraone. Chi fa politica a Palermo corre questi rischi, ma nessuno di quelli che mi accusa ha un certificato e un curriculum antimafia come il mio. Su questa storia del 2008 io non ho mai ricevuto neppure un avviso di garanzia, né sono stato mai chiamato in causa nel processo.